La musica è un linguaggio universale, come tale va oltre lo spazio, oltre il tempo, oltre le culture, oltre le differenze, oltre le lingue, per cui da boomer quali siamo tutti qua, riuscire a dare spazio a dei ragazzi giovani che per una volta riescono a girare, lo dico da regista, attrice, un film, un videoclip musicale in verticale, significa unire anche le generazioni, non soltanto i popoli e le emozioni, e come linguaggio universale la musica è anche un linguaggio di pace, secondo me, e ne abbiamo tanto bisogno, perché in tutto il mondo, tutti, balliamo se sentiamo un ritmo straordinario, di ritmi straordinari l'essere umano è capace e fa delle cose meravigliose, e quindi unire le generazioni, fare dei videoclip in vertical, riuscire a dare voce a dei ragazzi di 40 paesi diversi che fanno una roba così bella, io trovo che sia meraviglioso e sono veramente felice di essere qua. Grazie. Grazie Isabel, se lei si vede che è lavorato in quel mondo e in quell'ambiente, Grazie. 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 Grazie.